ciao benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a suonare questo riff in slap che hai visto è contenuto nel mio metodo advanced slap bass grooves quindi se non riconosci vai sul mio sito e vai a vedere un po di informazioni sono tutti metodi a prezzi molto popolari in pdf e con gli audio eccetera eccetera allora andiamo a vedere questo esercizio molto bello partiamo con un mia vuoto in thumb poi dopo andiamo a fare due ghost sempre in thumb in questo caso la mia mano sinistra va già verso il b cordo che dovrà suonare quindi sarà la destra a cercare di fare ghost queste note in thumb io utilizzo questa parte del palmo e quindi vado a muovere il pollice ma tengo il palmo sulla corda le note sono do diesis e sol ricordo che diventa re e sol diesis famoso intervallo di tritono spostato quindi di mezzo tono dopo vado a fare metto una ghost note con il thumb sulla corda di re qui inserirò sempre un thumb con nemmeno sol la prima sol naturale dopo una ghost in cui sposto la mano dei due tasti qui vado a fare in thumb sempre sole la re mi sol la faccio tutta lenta sono molto importanti queste ghost note messe per proprio per far spostare la mano e per spostare ritmicamente le note reali nella seconda battuta tutto molto simile tranne il finale quindi partirò di nuovo con il mio a vuoto le due ghost di nuovo il b cordo come prima poi anche qua tutto uguale ghost la e si dopo andrò a fare questa cosa cioè tre ghost note fatte thumb sulla corda di re va a creare questo effetto percussivo molto bello dopo vado a mettere in strappato in plac un pull off tra il mi e re e vado a concludere con un ottavo sulla nota sol nella corda di re attenzione qui a spostare la mano quindi solo la seconda battuta esce fuori questo mi raccomando esercitati in maniera molto lenta e poi piano piano porta sulla velocità fai ben attenzione ad incastrare tutti i sedicesimi noi ci vediamo al prossimo video grazie ancora a presto ciao ciao